A Lestoril sulla costa atlantica l'ex re Umberto è ricevuto da Don Valentini direttore dell'istituto salesiano. Sotto il velo di comunicanda Maria Gabriella con Maria Beatrice e Vittorio Emanuele. Una chiesetta quasi nuda intorno al candido raccoglimento di una bambina. Tra le sue antenate ci furono suore e sante e la piccola forse ne sente vicina la presenza come una memoria di famiglia mentre il sacerdote le somministra la particola. La luce festiva di questa costa del sole la accoglie coi primi auguri. Per un padre solo le nozze di una figlia sono altrettanto commoventi. Dopo il momento mistico viene quello della gioia infantile, lo capisce Maria Pia con un sorriso da sorella maggiore. Piccolo problema, il velo e il cappotto, mani amorevoli hanno aiutato a risolverlo.